In cronaca di Arezzo oggi ci sono due notizie, una buona e una cattiva, quella dell'annuncio del Papa che Bassetti è un nuovo cardinale e quello di un agguato in casa tra bande tra albanesi e rumeni. Poi c'è una super notizia, il ritorno dell'avvocato Donato di Palma, ciao, ben trovato, che c'era stato sottratto dal caso, ma io penso che fosse stato sottratto più dal PD, credo, sono malizioso. Ma io dal PD sono iscritto, non è che ne faccio pure parte, però non sono né onorevolo, sono solo iscritto, faccio parte con loro e vado all'assemblea con loro. A me mi è dispiaciuto che non hai ritornato perché sei un opinionista, sei un avvocato, anzi ricordiamo che ti è donato la due lauree. Sì, la due lauree. E un figliolo, facciamolo. E un figliolo. Guarda quanto è bellino il figliolo di... Samani infatti sono come figliolo perché... Che praticamente è congelato, un figlio che si chiama Findus, come si chiama? No, si chiama Giacomo, Giacomo di Palma. Insomma, Donato, al di là delle polemiche, sono contento che tu sei con noi quando vuoi, occupa pure questi spazi, perché tu sei una sorta di difensore civico venuto dal sud. Faccio sentire un po' la voce di Arezzo perché alcune volte non viene ascoltata. Il cittadino aretino dovrebbe essere ascoltato, come tutti gli aretini, e hanno i diritti come tutte le persone normali. Quindi l'aretino si deve fare un po' sentire, non deve stare lì seduto in un angolo e aspettare che qualcuno si deve fare la sua forza, diciamo. Il cittadino aretino ha il diritto di lavorare nella sua città, avere un futuro nella sua città, come mi figliolo, che è aretino, è nato da Arezzo. Io vorrò che mi figliolo, come tante persone aretine, abbia un futuro nella sua città, almeno nelle vicinanze. Noi che mi figliolo e altre persone aretine, non c'è lavoro qui, dovrebbero andare all'estero perché non c'è lavoro. Questo secondo me non è una cosa rapportata alla realtà, perché Arezzo è degli aretini. Ora possono venire altre persone da fuori, però noi si può pure aiutare, non ci sono mica problemi, però Arezzo va ad altri aretini, prima di tutto. E questi scontri tra bande rumene e albanese? Eh, questa è una cosa che va un po' vista, perché sinceramente manco a me piace, perché in una città civile queste cose non ci devono essere. Quindi se una cosa che succede va evitata in tutti i modi. Quindi c'è gli organi apposti che provvedono a evitare questa cosa, che c'è la polizia, i carabinieri e le forze dell'ordine. Speriamo che queste cose non succedano più, perché purtroppo succede perché c'è un po' di mafia, un po' di questa cosa un po' particolare in tutti i paesi. Una guerra fa poveri, è una guerra fra persone che si credono di illudere la legge, è una cosa che va un po' vista. Io vi ricordo che Donato è anche su Facebook, quindi gli potete scrivere direttamente Donato di Palma, è Donato di Palma 2 come Rambo, la vendetta. No, perché siccome ogni profilo supera 5.000 amici, dopo 5.000 amici, come hai fatto a farti tanti amici? L'amando l'amicizia io l'accetto, perché una correttezza di una persona che vuole dire la sua io l'ascolto. Va ascoltata, alcune volte le persone le ignorano, ma la persona va ascoltata, perché ognuno di noi ha la sua da dire. Nell'insieme puoi capire com'è veramente la difficoltà della rezza, la difficoltà della rezza è siamo messi male. Vedo negozi chiusi a retine, vedo persone che vi fanno fatica a fin del mese, vedo cose che sinceramente si possono evitare. Bene, chiedete, domandate a noi, domande le gireremo a Donato o chiedete direttamente a lui quando vorrà, noi lunedì, lunedì mattina. Io farò tramite il comune, quindi ogni cosa che avete difficoltà di qualsiasi tipo, con i miei amici che lavorano nel comune, provvederemo a risolvere la cosa. A dare una mano. A dare una mano, che conosco tutti al comune. Quindi conosci tutti. Tutti. Assessori, aureo, fanfanni. Ecco, non me lo salutare. Va bene, tu ce l'hai con fanfanni. No, no, a me non me lo salutare. Alla prossima. Non te lo saluto. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.